Allora, Nando, abbiamo parlato per tutta la serata delle misure che si rendono necessarie visto l'andamento della pandemia. La gente è convinta che ci sarà un nuovo lockdown o no? Ma no, direi che, lo vediamo con cartello 1, due italiani su tre sono convinti che non ci sarà un nuovo lockdown come quello di marzo-aprile, la pensa così, 61%, mentre il 29% prevede che ci sarà una nuova chiusura generalizzata. Senta, se la cosa buttasse male, gli italiani se lo aspettano, lo vogliono in lockdown o no? Ma qui l'opinione pubblica si divide quasi a metà, lo vediamo con il cartello 2, il 46% si dichiara favorevole a una nuova chiusura, mentre il 44% è di parere opposto e contrario. Hanno paura o no? Bisogna capire. Allora, le sanzioni per chi non porta la mascherina sono giuste o sbagliate? No, anche qui sono opinioni molto guidate dalla preoccupazione della paura, lo vediamo col cartello 3. Addirittura il 47% pensa che le sanzioni dovrebbero essere inasprite per coloro che non portano la mascherina, mentre il 39% pensa che le sanzioni siano sufficienti, quelle attuali, e un 6% solamente, un 6% pensa che dovrebbero essere diminuite o addirittura eliminate. L'altro binario su cui si è tenuta in piedi la nostra trasmissione, su cui si terrà in piedi il dibattito con gli ospiti che a breve ci raggiungeranno, preoccupa di più la salute o la situazione economica? Ma in assoluto preoccupa di più la salute, continua a preoccupare la salute, però se guardiamo il cartello 4 è interessante osservare come la preoccupazione maggiore riguardi il rischio di contagio dei propri cari, delle persone anziane, delle persone più fragili della propria famiglia, 45%, piuttosto che non il rischio di un contagio personale che viene citato dal 28%, poi un 10% teme di poter finire in quarantena, e il 7% solamente pensa di poter perdere il proprio reddito e i propri risparmi. Una cosa è la paura, una cosa è poi fare i conti, fare i conti con il pragmatismo e con la realtà. Pensano di essere in grado di reggere sul piano economico? Lo vediamo col cartello 5, anche qui quasi 2 su 3 pensano di essere in grado, e d'altra parte dobbiamo considerare che da un lato abbiamo comunque una maggioranza di italiani che ha un reddito fisso, una pensione, e dall'altro sappiamo che anche in questi mesi la propensione al risparmio degli italiani è aumentata, quindi hanno messo da parte qualche cosa di fronte a prospettive incerte e quindi sono abbastanza tranquilli. Però non dimentichiamo che c'è un 30% che viceversa pensa che potrebbe essere fortemente danneggiato da un nuovo lockdown. Abbiamo più volte domandato agli italiani cosa pensassero di come l'esecutivo ha gestito questa epidemia. Abbiamo fatto la domanda opposta. Come pensate che l'opposizione avrebbe gestito la stessa situazione? In realtà secondo me è molto interessante la fase che stiamo vivendo, perché abbiamo visto che si conferma un consenso piuttosto elevato per il governo e per il Presidente del Consiglio, ma nello stesso tempo lo scenario politico mostra un centro-destra che è in vantaggio rispetto alle forze della maggioranza. Allora se guardiamo il cartello 6, abbiamo chiesto, secondo lei l'opposizione gestirebbe meglio rispetto al governo questa nuova ondata di contagi? 51% pensa di no. Come si spiega questa apparente contraddizione? Da un lato c'è la consapevolezza che siamo di fronte a un problema molto grave e che nessuno ha la bacchetta magica. E dall'altra sappiamo anche che gli orientamenti politici influenzano poco i giudizi rispetto alla situazione complessiva che il governo è chiamato a gestire. Quindi una cosa è la politica, una cosa è la realtà, Pagnoncelli.